Allora siamo arrivati alla prova centrale, il premio Iglesias, confronto per femmine di 4 anni sulla distanza breve, sono in 6 al via, non corrono Tina Turner F e The Elegance LF. Da aggiungere che Tahiti B e Tursio Pejet corrono completamente sferrate e Tussifond corre senza ferri posteriori. Dallo steccato al numero 1 Tahiti B, Mario Minopoli Junior, 3 Tursio Pejet, Vincenzo D'Alessandro Junior, 5 Tata Cross, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, 6 Tundra dei Venti, Manuele Matteini, 7 Tussifond, Raffaele Forino in seconda fila con il numero 8 Toulouse OM Gennaro Casillo. La rottura di Tundra dei Venti prima dello stacco. Tursiope Jet la più veloce, Tata Cross a largo, Tussifond in terza, Tursiope al comando, Tata Cross che viaggia a ridosso di Tursiope ma poi è scavalcata da Tussifond e così Tutsi va su Tursiope, passa a condurre e ha messo così già una serie ipoteca. Sul risultato Tussifond lancio in 13,7 quarto iniziale che si completa adesso in 29 Tussi, Tursiope, Tahiti, poi Toulouse, Tata Cross e Tundra dei Venti rimessa che gradualmente riprende contatto con il gruppo. Fila indiana al passaggio dei primi 600 metri, 600 iniziali coperti in 44,6 da Tutsifond che all'imbocco della penultima curva è sempre in vantaggio davanti a Tursiope Jet e Tahiti B, poi Toulouse OM, ancora Tata Cross e Tundra. 800 in un minuto e quattro decimi, cambia niente, quando si va sulla retta opposta alle tribune c'è sempre in vantaggio Tutsi-Font via i tappi a Tursiope che perde un po' contatto dalla battistrada. C'è un 14,1 per chiudere il chilometro, uno 14,6, Tutsi al comando, Tursiope che capeggia il gruppo delle inseguitrici a questo punto perché sono almeno tre le lunghezze di vantaggio di Tutsi che ora incrementa il suo vantaggio sulle cavalle che inseguono. Sono sempre capeggiate da Tursiope che ha ridosso Tahiti B, 1,29, tre quarti di miglio, mancano 200 metri alla conclusione con Tutsi in vantaggio, poi Tursiope sulla quale scatta Tahiti, poi Toulouse OM, Tutsifont in vantaggio, poi Tursiope e Tahiti. Gran finale di Tahiti, Tahiti B che va a vincere su Tutsifont, Tursiope, Toulouse OM, 1,58, 13,6, 13,7 la media. Tutsifont delude, delude perché dopo la vittoria dell'altro giorno onestamente era difficile aspettarsi una sconfitta, Tahiti B però ci ha messo molto del suo e con un finale micidiale nelle mani sicure di Mario Minopoli Junior agguanta e poi batte di una lunghezza la favorita Tutsifont. Terzo posto per Tursiope, Jett.